Rieccoci, oggi come potete immaginare dedichiamo l'approfondimento principale all'attacco iraniano a Israele, sia per le implicazioni, si tratta di un unicum nel contesto del conflitto in Medio Oriente, dopo anni che Tehran ha finanziato milizie proxy senza però mai esporsi direttamente, sia perché il modo in cui si è svolto l'attacco ci offre un'analisi importante sulla guerra del futuro. Prima però, digressione, devo parlarvi di una cosa molto grave, molto grave, perché il rischio concreto a cui ci potevamo andare incontro è una limitazione della libertà di stampa in Italia. Non lo dico così a cuorlegio, cioè, allora, io sono un po' arrabbiato. L'attuale maggioranza si è occupata in questi giorni di una serie di iniziative che minavano alla base lavoro giornalistico, prima tra tutte la proposta di carcere per reato di diffamazione. Ora, metto le mani avanti. Le proposte di cui vi parlerò hanno generato un'indignazione tale da essere già state ritirate, ma questo non cambia la sostanza del discorso che dobbiamo fare. Quindi, partiamo dall'inizio. In che senso parliamo di leggi e di carcere ai giornalisti? In Italia, in Italia, stiamo parlando dell'Italia. La settimana scorsa era emerso come Fratelli d'Italia avesse presentato in Commissione Giustizia, l'organo della Camera che per semplificare si occupa di valutare i progetti di legge pertinenti alla normativa giudiziaria, degli emendamenti alla legge 47 del 1948, la cosiddetta legge sulla stampa, e emendamenti che avrebbero introdotto un nuovo articolo, il 13 bis. Ora, perché bis? È presto detto. Perché il 13 è un articolo particolare che applicava, in caso di diffamazione a mezzo stampa, una pena detentiva da 1 a 6 anni. E il focus qui è sull'uso del passato, perché l'articolo 13 era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale nel 2021, proprio a causa della presenza del carcere tra le pene previste. In questo contesto si andava quindi a inserire la proposta del 13 bis, che avrebbe reintrodotto il carcere, ma un pochino di meno rispetto alla prima proposta, quella bocciata l'altra volta dall'Alta Corte. Stavolta da 1 a 3 anni, in caso di diffamazione reiterata e pianificata, aumentabili sino a 4 nel casi più gravi. Quindi intuirei dire che è esplosa una polemica gigantesca, e la cosa interessante è che è esplosa all'interno della maggioranza. Questo è uno dei punti fondamentali. Realisticamente, infatti, non sarebbe successo niente, nulla, perlomeno sino a un nuovo eventuale pronunciamento dell'Alta Corte, se non fosse che la Lega e Forza Italia sono state talmente tanto critiche, preferendo un approccio che obblighi i giornalisti alla rettifica, piuttosto che al carcere, che la norma è stata mandata avanti senza queste modifiche. Cioè Fratelli d'Italia ha dovuto dire che non la possiamo fare perché Lega e Forza Italia sono contrarie. Tutto all'interno della maggioranza, non ha nemmeno senso che citi l'opposizione, perché capirete cosa l'opposizione può aver pensato di una cosa del genere. Ora, il contesto in cui sono stati proposti questi emendamenti lo conosciamo ed è quasi banale da sottolineare, ma interventi legislativi di questo tipo sono ovviamente pensati per avere un effetto dissuasivo, nel senso che io, giornalista, sono molto meno inclini a riportare una notizia in modo critico, anche con opinioni forti e documentate, se so che il rischio il carcere, se la persona dall'altra parte, quasi sempre un politico, dovesse sentirsi diffamato o offeso. Non ragiava neanche l'argomentazione che si trattasse di norme pensate per i casi di grave diffamazione, perché viene menzionato di rado come una legge in merito già esista, in quanto la consulta nel 2021 non ha toccato l'articolo 595 del codice penale, che al terzo comma prevede la pena del carcere per offese a mezzo stampa, ed è pensata proprio per le situazioni di eccezionale gravità, come ad esempio l'incitazione all'odio. Poi è ovvio, possiamo discutere se sia o meno giusto, se ci siano delle situazioni estreme in cui un giornalista possa o meno affrontare il carcere, al netto che in caso di quella gravità è realistica una persona non resti giornalista a lungo, ma il punto è un altro, ed è che si tratta di norme strumentali e volte a intimidire la stampa. E guardate, ci tengo a essere molto chiaro perché non parliamo di situazioni ipotetiche. Nelle scorse settimane si è ripreso a parlare del caso del noto intellettuale Luciano Canfora, che l'anno scorso era stato denunciato dalla Presidente del Consiglio Meloni proprio per diffamazione. Il processo inizierà domani, dopo che lui l'aveva definita neonazista nell'animo, rifacendosi a quelle che lui ritiene essere le radici storiche di Fratelli d'Italia e associando il termine al sostegno di Meloni all'Ucraina. E benché ovviamente le sue opinioni siano criticabili, anche deprecabili, io non le condivido, esiste un'argomentazione che può essere fatta di cosa sia o meno diffamazione, di quale sia il limite tra una valutazione durissima di un'ideologia e di cosa invece leda in qualche modo la persona. Persona che in questo caso non è un cittadino qualunque, ma rappresenta lo Stato al suo apice e deve, per definizione, essere molto più permeabile da questo tipo di attacchi che rientrano nella libertà d'espressione. Perché non c'è nessuna diffamazione nel dire secondo me la tua ideologia è nazista nell'animo. Non è una diffamazione. In che modo dimostriamo che è una diffamazione? Non è una diffamazione. È un'opinione politica molto forte, certamente, sgradevole, nessuno ha detto che debba essere piacevole, ma è un'opinione politica di un intellettuale, di un giornalista. Non lo puoi mettere in carcere per una cosa così. È molto, 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 molto grave. E non vale dire, ma allora uno si contiene, sta attento a quello che dice. No, no. Cioè, no. Insomma, quello che sta accadendo è abbastanza chiaro. Guardate che adesso noi siamo dentro all'occhio del ciclone, non ce ne accorgiamo, ma questi eventi sono di una gravità inaudita, inaudita in questo paese dal dopoguerra in poi, ed è evidentissimo che questo governo non voglia il contraddittorio, non vuole persone sgradite in Rai, non vuole il contraddittorio, appunto, in Rai, quindi vuole mandare i suoi ministri a parlare quanto vogliono, senza un giornalista che gli faccia uno straccio di domande. Non vuole niente. Nessuno può nemmeno fare satira. Ci si scoccia pure per la satira. Ed è un problema. È un problema gigantesco che, per quanto questo progetto possa riuscire o meno, adesso pure Amadeus è stato mandato via dalla Rai, notizia di oggi, ci racconta quella che è la visione di questo paese, di questo governo nei confronti del paese. C'è una chiarissima visione e noi ne dobbiamo prendere atto. Anche se questo governo dovesse piacerci, anche se fossimo le persone di destra... Raga, è un problema. È un problema. Prima di passare alla prossima notizia, una cosa molto importante, perché non giriamoci attorno, conoscere e saper parlare in inglese oggigiorno è fondamentale, non solo per lavorare, ma in generale per migliorare quella che è la lingua più utilizzata al mondo, capire il mondo. E allo stesso tempo è fondamentale il ritmo di oggi poterlo fare quando, dove, come vogliamo. E come avete capito, sto parlando di nuovo di Cambly. Cambly è infatti una piattaforma di e-learning che vi permette appunto di fare le vostre lezioni d'inglese con tutte le comodità del caso, perché appunto è online, quindi potete farlo da dove volete, grazie non solo a un pc, ma a un tablet, uno smartphone, e soprattutto potete scegliere di farlo come volete, scegliendo tra 10.000 tutor a vostra disposizione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non solo questo, perché i piani delle lezioni sono personabilizzabilissimi, personabilizzabili. Cambly, se ci fosse anche in italiano sarebbe meglio per me. Ma dicevo, sono particolarmente personalizzabili, sia per quanto riguarda la frequenza che la durata. Potete decidere se fare le lezioni da mezz'ora, da 45 minuti, da un'ora, decidete tutto voi. Siete gli artefici del vostro tempo. A questo proposito, Cambly per questo mese ha deciso di esagerare, dato che i piani annuali, tutti e nessuno escluso, sono scontati al 55% se utilizzate il mio codice 55 Breaking, il che vuol dire che pagherete molto di meno rispetto ad altri servizi. Parliamo di 17,99 al mese e se siete nuovi e vi approcciate per la prima volta a Cambly e volete provarlo, nessun problema. Cambly vi offre una prova di 30 minuti per un solo euro. E come sempre, quindi, fatemi sapere come vi trovate, lasciatevi dei feedback, dei commenti. Lo stiamo utilizzando persino in redazione. C'è qualcuno in redazione, non voglio fare nomi e cognomi, che però si trova molto bene utilizzando Cambly. Ma non... Questa redazione si muove con il favore della tenebre. Non governa. Lavora con il favore della tenebre. Basta con questa citazione. Non la dirò mai più. Questa era l'ultima volta che mi sentirete dire questa cosa. Giuro. Arriviamo quindi a quella che è la notizia del weekend. Come ormai saprete tutti, infatti, tra sabato e domenica, l'Iran ha attaccato Israele con più di 300 tra droni e missili. Per l'esattezza si parla di circa 170 droni, 30 missili da crociera e oltre 120 missili balistici, di cui tuttavia il 99% è stato intercettato da Israele grazie anche ai suoi alleati, tra cui ci sono sia paesi occidentali, come Stati Uniti, Regno Unito e Francia, sia paesi del Medio Oriente, come Giordania e Arabia Saudita. Ora, il fatto che la stragrande maggioranza di missili e droni sia stata bloccata prima di entrare nello spazio aere israeliano ha ridotto al minimo i danni. Una base militare è stata lievemente danneggiata e non ci sono infatti vittime, se non alcune persone ferite, tra cui una bambina della comunità beduina di circa 7 anni, anche se alcuni giornali dicono 10, ma siamo lì, che è attualmente ricoverata purtroppo in gravi condizioni. Passiamo ora alle motivazioni. Come dichiarato su X dalla missione iraniana alle Nazioni Unite, Teheran sostiene che si tratti di legittima difesa, sancita quindi dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, in seguito a questa l'aggressione israeliana all'ambasciata iraniana a Damasco in Siria, ve lo ricorderete, avvenuta due settimane fa e dove, tra gli altri, è rimasto ucciso un importante generale delle guardie rivoluzionari iraniane, Reza Zahedi. Apro quindi una parentesi fondamentale su una cosa che citavamo in una puntata di qualche giorno fa, ve lo linko in descrizione. Israele e Iran sono in aperta ostilità da molto tempo, ma per quanto gli attacchi tra i due siano piuttosto frequenti, lo sono in genere per procura o comunque mai diretti, come dimostra appunto l'aggressione al consolato iraniano, che si trovava appunto in Siria. Ecco, la grande novità di quest'ultimo attacco è la ragione per cui rappresenta in parte uno stacco con il passato e un evento storico molto rilevante e che per la prima volta una parte dei lanci è avvenuta direttamente dal suono iraniano a quello israeliano, per quanto ci siano stati altri paesi coinvolti come l'Iraq, la Siria e lo Yemen. Però il gesto è fondamentale. Da un punto di vista militare, questo per aver svantaggiato l'Iran comunque. Sfruttare infatti i paesi alleati, in particolare Siria e Libano, con cui Israele condivide i confini, vorrebbe dire banalmente essere molto più vicino al bersaglio, dando meno tempo ai propri nemici di reagire. Tuttavia, che l'efficacia dell'attacco non fosse la priorità è chiarissimo da subito, perché il ministro degli esteri iraniano ha detto di aver avvisato i paesi vicini, anche gli alleati statunitensi, con un preavviso di 72 ore. Cioè gli hanno detto tre giorni prima che rende il tutto non esattamente una guerra lampo. Insomma, se dai un preavviso di tre giorni prima, guardate che poi bombardiamo, facciamo un macello, è evidente che i tuoi obiettivi siano altri. E quali sono? Persino l'Iran infatti sapeva che Israele avrebbe intercettato tutti o quasi i suoi attacchi, perché banalmente conosce molto bene le capacità difensive del famoso Iron Dome, letteralmente cupola di ferro, il sistema di difesa antimissilistica di Israele. Secondo la CNN, che ha pubblicato un'interessantissima analisi in merito, lo scopo era fare l'azione più spettacolare possibile, non la più efficace possibile, portando il mondo a tenere il fiato sospeso, mentre si filmavano immagini apocalittiche di palle infuocate, che abbiamo visto tutti, che attraversavano il cielo di tre paesi diversi. E ottenendo dimostrare i muscoli, salvare la faccia e dimostrarsi pronta a reagire qualora provocata. E da un punto di vista ideologico sembra aver funzionato, sono innumerevoli i video che sono circolati di persone festanti nelle piazze, nelle strade, persino nel Parlamento iraniano. E sono immagini che ci raccontano di quanto, ancora più che da noi, questo conflitto tende a incarnare dissapori che sono principalmente storici, etnici, religiosi e ideologici. Ad ogni modo, se l'Iran ha detto, testuali parole, che con questa ritorzione finale la questione possa ritenersi conclusa, è tutto da vedere. E proprio lì pomeriggio, infatti, si è riunito il cosiddetto gabinetto di guerra, un organo creato dal governo israeliano pochi giorni dopo il 7 ottobre. Ne fanno parte il premier Netanyahu, il ministro della difesa Gallant, l'ex capo di stato maggiore dell'IDF Gantz, più tre osservatori, e si sono tutti messi insieme sostanzialmente per decidere come reagire all'attacco iraniano, pur non concludendo nulla per adesso. Pur essendo infatti tutti d'accordo sul fatto che una reazione sia dovuta e che quindi le tensioni con l'Iran potrebbero continuare a inaspirarsi, persino per arrivare a un punto di non ritorno, i membri del gabinetto si ritrovano divisi su quali debbano essere le tempistiche e l'intensità del contraattacco. Elementi che per ora hanno portato a rimandare la decisione nei prossimi giorni. Elemento importante è però che gli Stati Uniti abbiano già fatto sapere che qualora Israele decidesse effettivamente di contraattaccare, Washington non contribuirebbe in nessun modo, pur continuando, comunque a difendere Israele, chiedendo anche al premier Netanyahu di valutare con estrema attenzione la propria replica. Ovviamente la strategia statunitense è provare a evitare un'espansione del conflitto nell'area, che è già molto provata da quello che sta accadendo a Gaza, fatto spiccato in realtà anche da altre alleate israeliani, non che dai paesi vicini, tutti. Quindi ragionando sulle conseguenze diplomatiche dell'attacco, è possibile ci sia persino un vantaggio per Israele. Visti gli ultimi risvolti, infatti, il paese, l'abbiamo detto, era diplomaticamente isolato e gli Stati Uniti, sui alleati storici, avevano preso una certa distanza dalla filosofia bellica del premier israeliano Netanyahu, per cui il fine, cioè l'eradicazione di Hamas, ha giustificato sinora tutti i mezzi, tutti quanti, e cioè quello che in sostanza è il genocidio del popolo palestinese. Va da sé che questa nuova espressione di vicinanza degli alleati che vediamo in queste ore, perché tutti quanti hanno espresso tutti grandi leader, intendo hanno espresso grande vicinanza a Israele per l'attacco ricevuto, senza che peraltro l'attacco abbia effettivamente fatto a danni rilevanti, lo ricordiamo, possa in qualche modo migliorare l'immagine che la comunità internazionale ha di Netanyahu e di Israele. Perché anche qui, io mi rendo di nuovo antipatico, è evidentissimo che ci sia un desiderio di distruzione di Israele. Durante le fasi dell'attacco, che peraltro sono stati annunciati, ma i missili sono arrivati molte ore dopo su Israele, c'era un quantitativo di fake news in giro incredibile, addirittura che con un attacco hacker l'Iran avesse disabilitato completamente l'Iron Dome, che è una roba impossibile, non funziona così. Ma c'era questo desiderio, io lo percepivo. Non c'è nemmeno nei confronti della Russia, nessuno vuole che la Russia sia completamente distrutta. Mentre c'è questo desiderio in tanti osservatori, parlo della popolazione, c'è questo desiderio, c'è. E io invito, come ho fatto in Grandellina stamattina, tutti quanti a essere molto calmi, non solo a non desiderare la distruzione di un popolo, perché non è che l'uccisione di un popolo vale l'uccisione di un altro popolo, non dovrebbe funzionare così, ma soprattutto a sperare che non ci sia un escalation, perché come un escalation è molto pericolosa tra Ucraina e Russia, Occidente eccetera, anche qui a livello non solo regionale ma internazionale il pericolo di incasinare le cose in maniera irreversibile è altissimo, quindi non facciamoci obnubilare dal fatto che siccome Israele allora vale tutto. No. Ultimissima questione che citiamo al volo, ma l'ho vista ripresa poco e secondo me importante, c'è la questione dei costi dell'operazione di intercettazione dei droni. Che elevatissima! Il Wall Street Journal parla di oltre 550 milioni di dollari, cifra che dicono gli esperti è paragonabile a quella spesa da Tel Aviv nella guerra dello Yom Kippur del 73, dell'intera guerra. Quindi Israele ha sì dimostrato ancora una volta una grande capacità nel proprio sistema timissilistico, ma da parte sua l'Iran ha dimostrato di poter facilmente interferire nell'economia del paese. questioni che l'abbiamo visto in altri conflitti sono comunque di vitale importanza. Detto questo non facciamo il tifo, non... basta tifo, non... no. Chiudiamo la puntata con la nostra ormai solita rassegna delle notizie da sapere oggi e partiamo da Haiti, perché è notizia di questo weekend che dopo un mese di negoziazioni è finalmente stato costituito un consiglio di transizione, incaricato di nominare un primo ministro ad Interim che possa guidare il governo nel raggiungimento di due obiettivi. Il ripristino dell'ordine pubblico e dello stato di diritto nel paese e l'organizzazione di elezioni per nominare un nuovo presidente nel tentativo di mettere fine al controllo e alle violenze da parte delle gang. È da tempo che ad Haiti la situazione si è fatta tragica, ne abbiamo parlato anche noi più volte, vi lascio il link in descrizione per chi volesse recuperare con le gang criminali nel paese che hanno preso il controllo della capitale Porto-Prince, approfittando dell'assenza dell'allora primo ministro Ariel Henry che si era recato in Kenya per finalizzare un accordo per l'invio di una missione di sicurezza internazionale che aveva proprio lo scopo di contrastare la violenza delle bandi armate ad Haiti. Henry a quel punto aveva dovuto annunciare le proprie dimissioni e allora la comunità dei paesi caraibici, gli Stati Uniti, la Francia e il Canada si erano riuniti in Giamaica per discutere dell'esigenza di creare questo consiglio di transizione. Per farne parte i membri nominati hanno dovuto garantire il proprio supporto alla missione internazionale e tra questi ci sono principali partiti politici, rappresentanti del settore privato, della società civile, della diaspora haitiana e anche leader religiosi. Per il resto, non lo so, staremo a vedere. Nel frattempo andiamo in Germania perché proprio oggi una commissione sull'autodeterminazione riproduttiva, istituita appositamente dal governo, ha presentato le conclusioni di un'indagine che ha analizzato il quadro normativo che regola l'aborto nel paese, in cui sostanzialmente si invita il paese a legalizzarlo nelle prime 12 settimane di gravidanza. Infatti, per quanto possa sembrare strano, in Germania l'aborto è formalmente illegale e per quanto nella maggior parte dei casi non venga punito, questo è dovuto a una legge resalente a 153 anni fa, che appunto lo vieta quasi totalmente. La commissione, in cui parere comunque non è vincolante, ha fatto sapere che sarebbe necessaria l'introduzione di una legge più moderna, per così dire, che sia compatibile con gli standard internazionali attuali. Altra cosa, è iniziato oggi il primo processo penale a carico di Donald Trump, quello in cui è accusato di aver utilizzato denaro raccolto per la campagna elettorale per pagare 130.000 dollari all'attrice porno Stormy Daniels nel 2016 per comprare il suo silenzio riguardo un rapporto sessuale che due avrebbero avuto dieci anni prima. Si tratta di un momento storico, perché è la prima volta che un ex presidente degli Stati Uniti si trova ad affrontare un processo di natura penale, e per quanto questo sia particolarmente odioso, perché chiedi soldi alla gente per la campagna elettorale e li usi per farti affari tuoi, questa è l'accusa, questo è solo il primo di ben quattro processi penali che lo vedono imputato, ma è probabilmente anche l'unico che inizierà prima della data delle elezioni presidenziali. Questo è molto importante, perché una cosa è essere processati prima di essere presidente in carica, una cosa è che succede se è il presidente in carica a essere processato, insomma ci si muove in un ambiente un attimo incerto, però oggi inizia tutto, quindi la recuperiamo perché è molto importante. E questo era anche tutto per oggi, grazie per aver guardato, grazie per essere arrivati fino a qui, mi raccomando Cambly, grande sponsor di Breaking Italy, link in descrizione per provare il servizio super utile, vi ricordo anche i biglietti per il night in vendita, anche quelli li trovate in descrizione, assieme a tutto il resto dei link, delle notizie, delle cose che vi lasciamo lì sotto, quindi fatele brave, fate i bravi, buon inizio settimana, ci vediamo domani.